Si fanno sempre più drammatici i dettagli del ferimento del giovane avvenuto a Barcola la notte scorsa il cui responsabile un croato senza fissa dimora è stato messo in galera. Il giovane è stato operato d'urgenza a Cattinara, era arrivato in ospedale cosciente ma aveva perso metà del sangue. Il ragazzo presentava tagli all'addome alla gamba ma a preoccupare i medici è stato subito un profondo taglio al braccio. Il pericolo era che fosse stata toccata l'arteria. In ogni caso il giovane è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell'accaduto ha dell'incredibile il croato ubriaco cadendo e aveva mandato in frantumi il collo di una bottiglia di vetro. Il ragazzo aveva cercato di aiutarlo ma l'uomo ha incominciato a menare fendenti con la bottiglia colpendolo. Anche un altro giovane nel frattempo intervenuto era stato ferito.